bentornati oppure benvenuti da queste parti benvenuti sul plutonia publication podcast io sono alessandro girola scrittore prevalentemente a orrore del fantastico blogger e occasionale podcaster questa puntata del mio blog nel mese di ottobre ovviamente sono dedicate ora più che mai all'horror come ho già detto nell'introdurre gli altri episodi sono dedicate soprattutto alle varie sfumature del cinema horror perché mi occuperò ad ottobre soprattutto di cinema horror mentre in altre occasioni avremo modo di occuparci come ho già fatto di letteratura fumetti e magari anche giochi di ruolo e libro game la puntata di oggi in particolare ho deciso di dedicarla a un film credo pressoché sconosciuto se si esce dalla cerchia dei veri appassionati di cinema del terrore perché perché è un film italiano a basso budget che ha ricevuto una campagna marketing molto piccola e tuttavia un ottimo film di un regista secondo me molto sottovalutato che avrebbe bisogno della grande occasione e chissà mai che prima o poi non arrivi si tratta di oltre il guado che è stato anche distribuito col titolo inglese across the river di lorenzo bianchini film del 2013 bianchini che è un regista nativo di udine ha l'attivo già diversi cortometraggi e alcuni film tra cui io l'ho conosciuto attraverso questo custode sbestia del 2004 si tratta generalmente di produzioni indipendenti con budget appunto molto risicati per non dire ridotti all'osso e con scelte autoriali da parte del regista stesso che prediligono una valorizzazione del territorio natale del registro quindi udine il friuli i film di bianchini sono per veri appassionati molto lontani dagli standard dei blockbuster americani degli horror blockbuster americani sono film o cortometraggi anche con ritmi lenti con la tensione gestita in un crescendo con ampie parti girate in stile documentaristico magari per ovviare i già citati limiti di budget e particolarità questa molto interessante in parte recitata in diretto friulano con sottotitoli in italiano sono elementi che effettivamente farebbero scappare un attuale sedicenne diciottenne dalla sala cinematografica dopo dieci minuti di proiezione ma tanto i film di bianchini finora al cinema non ci sono mai arrivati ma abbiamo la fortuna di poterli gustare altrove a cross the river forse la sua produzione più più conosciuta tutto sommato e più internazionale appunto già partendo dal titolo across the river che da noi troviamo come ho già detto come oltre il guado la trama questa sostanzialmente uno teologo naturalista lavora con scrupolo e passione nella profondità dei boschi delle alpi intrappolando animali e fissando delle videocamere su di essi in modo da poterne monitorare il loro comportamento a distanza poi ovviamente li lascia andare immerso nella natura si ritroverà ad avere minata la sua integrità fisica mentale quando le sue registrazioni notturne lo condurranno un lontano villaggio luogo di un'antica maledizione dove rimarrà bloccato a causa di una forte pioggia che alza il livello del fiume e inonda l'unico eccesso al paese stesso ok una trama già sinossi già accattivante che appunto come può catturare quelli come me che sono appassionati di un certo tipo di cinema horror un certo modo di girare cinema horror che non è solo quello degli slasher non è quello che va di moda magari attualmente nelle produzioni netflix che sono orientate di solito su prodotti molto colorati e molto per teenager forse io sorpassato da un pezzo questa questo target di età e quindi cerco cerco altre cose le campagne le montagne delle pellicole di bianchini sono come ferme nel tempo sospese tra una modernità molto portata di mano ovvero sono film contemporanei ma allo stesso tempo radicati a tradizioni leggende folklore e maledizione che fanno parte di un passato fatto di streghe mostri fantasmi lupi mannari e orchi una tradizione che pesca a piene mani nei racconti dei contadini che non sempre sono favolette almeno secondo la narrazione di bianchini ma a volte nascondono terribili verità e servono appunto per celarle al mondo attuale che non ha più tempo voglia in modo di capire certi fenomeni oltre il guado a tutti questi elementi e sicuramente gronda di fascino oscuro almeno per me è un film molto affascinante i dialoghi sono pochi estremamente pochi ritmo è lento i colpi di scena vengono centellinati eppure il film funziona ci sono e qui faccio spoiler delle presenze malefiche che infestano i boschi le montagne del friuli sono due sorelle due sorelle di cui non dico molto altro che sono presenti in quel paese abbandonato di cui ho parlato cui accionato leggendovi la sì la sinossi del film sono sorelle malefiche che fanno una dannata paura il senso di isolamento del protagonista che è solo e lontano dall'umanità è crescente tangibile e spaventoso chiunque si sia trovato nelle condizioni di camminare su un sentiero di montagna durante un temporale magari da solo non potrà che apprezzare questo film che tra l'altro potete trovare anche abbastanza facilmente a buon prezzo e quindi potete regalarvi questa emozione in in modo anche da salvare le vostre tasche e magari vi potete gustare un film un po diverso dai soliti che vengono citati ogni halloween o da quelli nuovi che comunque sono stra recensiti sui canali youtube e twitch di tendenza vedete va di moda parlare male del cinema or italiano contemporaneo e a volte è vero perché la qualità spesso è molto bassa e non si tratta solo di budget perché come bianchini con uno scarso budget sa ricavare degli ottimi cortometraggi lungometraggi sono altri registi che parità di budget o anche con un budget leggermente superiore riescono soltanto a produrre delle mere ciofeche e purtroppo ne ho viste alcune soprattutto su prime video che spesso ospita questo genere di pellicole ma sono le reputo davvero inguardabili abbiamo anche un passo molto più lento rispetto ad altre produzioni di pari genere di altri paesi europei e non parlo di paesi nemmeno con una densità di popolazione tanto elevata da garantire più spettatori del cinema ho visto produzioni molto interessanti in scandinavia in islanda piccole produzioni dei paesi maschi insomma siamo un po indietro rispetto a tante realtà europee però però non bisogna scadere secondo me nei pregiudizi negativi e quindi schifare a priori a prescindere qualsiasi produzione nostrana io Bianchini l'ho scoperto per caso ed era appunto il 2004 io vedevo i film solo in dvd quindi li compravo la sostanza era così entravo in feltrinelli o in ricordi perché ai tempi si chiamava ricordi adesso non credo credo che siano solo feltrinelli quantomeno a milano e gironzolavo per il settore il reparto dedicato al cinema horror e il cinema fantastico e a volte mi beccavo queste perle che un po rischiando compravo devo dire di aver comprato anche molte schifezze però poi saltava fuori il caso eccezionale in cui un film sconosciuto come Arcustodias Bestie mi piaceva e c'era forse più esplorazione da parte dell'esperto in quei reparti fisici che non negli immensi cataloghi di streaming di piattaforme come Prime Video o Netflix perché sarà capitato anche a voi di passare di trascorrere intere serate a sfogliare il catalogo per esempio quello di Netflix senza alla fine scegliere un film o scegliendone uno che avete poi spento dopo cinque minuti perché non vi non vi ispirava mentre nel momento in cui tu comprai un dv di fisico ti senti quasi obbligato a vederlo anche se non ti piaceva per ammortizzare per ammortizzare la spesa insomma ecco Bianchini l'ho scoperto così ho scoperto un ottimo horror soprannaturale che evita di scopiazzare l'aria argento e grazie a Dio evita di scopiazzare i soliti film di zombie perché molte produzioni indipendenti italiane sono scopiazzature di film di zombie o comunque apocalittici perché bastano due uniformi da soft air e quattro pistole in plastica e un vago make up da infetti da zombie per girare un film anche se poi viene appunto una schifezza così come vengono di solito delle schifezze quelle che le pellicole che cercano di copiare argento e tutti i suoi emuli degli anni 70 80 già il fatto che appunto sia comunque un gotico rurale adesso lo chiamare lo chiamano folk horror perché più figo è già una scelta coraggiosa e secondo me vincente una scelta vincente perché appunto attira innanzitutto la curiosità sulle nostre terre che sono ricche una cosa una battaglia che io porto avanti da tempo sono ricche di traduzioni che non hanno nulla da invidiare al main alla transilvania ai castelli della boemia alla foresta nera insomma tutte queste tipiche ambientazioni horror ne abbiamo di noi anche di migliori abbiamo noi anche di migliori e tutto sta a sfruttarle se questo succede sempre più spesso viva dio nella letteratura horror nel cinema un ingranaggio che tarda a mettersi in moto ma quando capita abbiamo anche delle prove buone e bianchini in questo senso è un esploratore un un precursore di questa strada e con oltre il guado across the river riesce a realizzare un horror sovranaturale che è anche un gotico rurale un folk horror un bel film assolutamente un bel film che fa paura che richiama in un certo senso un po the blair witch project quantomeno nell'atmosfera perché ambientato prevalentemente in una foresta e le due sorelle qui c'è di nuovo spoiler sono molto assimilabili a delle streghe anche se poi la spiegazione finale che non vi non vi rivelo è diversa ci sono anche molti spazi appunto di silenzio molti spazi vuoti che lo spettatore può riempire con la sua fantasia prima di arrivare appunto alla spiegazione allo svelarsi del mistero non è un film perfetto si vede a volte il limite di budget si vede che bianchini è bravo ma ha ancora ampi margini di miglioramento tuttavia secondo me è un film che merita molto molto di più di tanti b movie presenti sui già citati canali come netflix prime video e chi più ne ha più ne metta un film che vi consiglio di vedere e già che ci sono ci aggiungo una nota personale è uno dei film a cui ho attinto a livello conscio ma anche subconscio per scrivere il mio nuovo romanzo breve che uscirà questo halloween che è tra i fiumi tra l'altro il titolo ecco a livello totalmente subconscio è simile perché abbiamo oltre il guado il film invece il mio è tra i fiumi ma la sostanza è la medesima ovviamente la mia trama è molto molto diversa dal film da quella del film i bianchini però ho preso spunto vuoi un po nelle ambientazioni gotiche rurali anche se nel mio caso sono ambientazioni emiliane e non friulano friulano e vuoi per l'horror soprannaturale che poi quello che mi piace scrivere più di tanti altri forse a eccezione delle delle storie di zombie apocalips comunque lo troverete o magari già lo trovate su amazon sia il mio il mio romanzo che il film di bianchini quest'atto sicuramente lo trovate in dvd e forse anche su qualche sito di streaming ammetto di non aver controllato quindi date una chance date una chance a un buon film italiano perfetto secondo me per halloween soprattutto per queste giornate piovose che non so da voi dove mi sentite ma qui al nord in lombardia da dove vi trasmetto si stanno ripetendo e ricalcano molto le atmosfere altrettanto piovose di across the river e questo è tutto questo è l'ulteriore consiglio di visione per halloween 2021 io vi consiglio come sempre se volete di seguirmi su instagram su telegram e se l'ho ritenuto opportuno di offrirmi un caffè sulla mia pagina tramite la mia pagina cofi che trovate insieme a tutti gli altri link in descrizione per finanziare i miei progetti podcast scrittura blog e quant'altro io vi saluto e vi do appuntamento col prossimo film horror che tratterò in questo ottobre